Bella a tutti ragazzi sono Alias Play e eccoci qua in un altro nuovo video di Valorant dedicato esclusivamente a Star Casino gratis Mi raccomando ragazzi vi lascio tutti i link in descrizione quindi dovete seguirli assolutamente su Instagram Perché troverete un sacco di rompicapo, minigiochi, indovinelli eccetera e addirittura potete consultare il vostro oroscopo Inoltre ragazzi vi ricordo di scaricare la loro applicazione in modo gratuito nello store digitale Eccoci qua ragazzi di nuovo su Valorant l'altra volta è andata male, ha salto alla spike Adesso proviamo a farne un'altra tra l'altro sto usando Omen che mi sto trovando veramente Partita trovata Ho già trovato la partita Sto usando Omen che veramente mi sta piacendo veramente un sacco vediamo cosa riusciamo a fare Ieri alla fine ho giocato un po' per vedere un attimo la connessione perché come vedete mi sono trasferito Allora direi di rubarli lui Tanto qua va un po' push la situazione quindi ma si usiamo Omen Vediamo cosa riusciamo a fare con Omen Io sono l'alfa e l'omega ok Ok la mappa è bind Carina quella col teletrasporto in mezzo appunto se vedete nel mezzo Teletrasporto anche all'auto che dal punto A ti porta al punto B Bellissima sta mappa carina Veloce Ok ragazzi vi spiego un attimino Vi spiego un attimino Ok ho già problemi di rete 52 di ping brutta roba Allora vi spiego un attimino come funziona Per chi non lo sa Ovviamente dovete guardarvi le puntate precedenti Un attimino ve lo spiego subito Paranoia Ok c'è uno qua dentro sicuro Sì 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 è qua è qua è qua è qua Eccolo L'ultimo giocatore rimasto Quello Ok 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 Sto plantando sto plantando Si sono trasferiti Si sono teletrasportati qua Manca un solo nemico Ok raga Sono veramente Veramente fortissimo Ok GG 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 Ok ragazzi Ho fatto 3 kill Solo io Oh 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 Ma l'ho spaccato Ok 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 raga Ho dovuto disattivare la chatta del gruppo Perché se no non sentivo i passi Che ovviamente in questo gioco Il rumore è fondamentale Nel senso sentire i passi eccetera È una roba fondamentale Ok abbiamo sentito che sono arrivati Dal teletrasporto di mid Ultimo giocatore rimasto Ultimo giocatore rimasto Ultimo giocatore rimasto Ultimo giocatore rimasto Ok Quelli non usciranno Escono Non escono Fuori dai piedi Bello Boom Uno Ah Bello 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 Potevo stenderli il doppio Dai ma Fai le voci Ragazzi Fanno veramente morire Le voci dei Come si chiama Dei personaggi Cioè Fanno spaccare Delle risate Ok ragazzi Vi spiego Per chi appunto Non ha visto il video Allora Tutti quanti abbiamo la spike I round sono Quattro Mi sembra E le armi Sono casuali Ok Applicazione paranoia Ok Ok Secondo mai lì Eccolo Oh Ho laggato Sto laggando 300 di ping Ehi 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 Non scherzare Non scherzare Proprio Ok Sono di là Devo correre di là Devo correre di là Prima che è defusa Bello 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 Abbiamo 4 kill Dai 4 kill Non è male Non è male Ho iniziato la gare Sinceramente si teletrasportava Brutta Brutta roba Brutta roba Brutta roba La pistolina In realtà Mi trovo un sacco bene Però Bello 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 Sì vabbè A chi vuole fare questo Ovvio che sei lì Ok ok Defuso Defuso Ci ne sono altri due Ci sono altri due Defuso col problema di rete Bah Ma chi vince qua E chi ha capito Alias play Ragazzi Ha vinto Alias play Chi ha vinto L'ho pure uccisa L'ho pure uccisa Troppo forte ragazzi Troppo forte Cioè Troppo forte Guarda Ne faccio un'altra Perché MVP Alias play Ragazzi Ovvio Ovvio Ma chi deve essere Chi deve essere Ok 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 Mi servono i tuoi segreti Segreti Ok direi che mo Ce ne andiamo Dritti dritti qui Riparo in arrivo Riparo in arrivo lì Ok Le ombre vagano Ultima bronza Ok Vediamo se esce Oh mi sono spaventato forte Ok ok Piazzata Ma veramente fanno Silenzio Manca un solo nemico Riparo in arrivo Ok 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 Sono un pro player Qua guardate quanto smira Cioè Cos'è una S Cos'è Ok ok Va bene Iniziamo bene Iniziamo bene Allora facciamo così Mettiamone Una Qua Le ombre vagano Le ombre vagano Ok Mi acceco Ok Dove Tutti Vallo Vallo Affk Non ce n'è No Manca un solo nemico Vallo Bellissimo, bellissimo Vabbè, quella lì mi è andata un po' di fortuna, eh Vi dico la verità Bella questa Bella questa Oh, oh Ma cos'è? Lui non si muove, stava pure camminando Vabbè Bello Oh, cos'è tutto? Dove si nascondono tutti? No, peccato, peccato Peccato Manca un solo nemico Manca un solo nemico, beh, era quello che era in B Ultimo giocatore rimasto B, B, B Era quello che era in B, no? Trenta secondi rimasti È qua a destra Ma che cavolo è? Vabbè Va bene Va bene, va bene Va bene, va bene, va bene Cambio posizione Guardate cosa faccio Vediamo se mi viene, eh Spostati Mi ha intercettato Ha intercettato la mia mossa Ultimo giocatore Cavolo, cavolo Ci stanno No, devi ricaricare Ah, vattene Cos'è? Sarà l'armadoro catturata Aia Quello lì La prende, vabbè Con un colpo muore Eh, vabbè Va bene, va bene Va bene Ci sta Una vittoria E un'altra vittoria Perché da lì a Splay Mai dire sconfitta Ok Librivo di visione Tigre Ok 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 Pianto Ce la faccio Non ce la faccio Non lo so Mi sono spaventato Dai, date armi normali Basta Questi pompa Oh, questo è buono Il guardia Raga Questo è buono 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 Cioè Fidatevi Allora Io adesso faccio così Copro qua Guardate la mia tecnica Copro questa entrata qua Questa Questa qua sotto Faccio un po' di casino qua E me ne vado in C Qua 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 Ok 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 Raga Piazziamo Piazziamo Non mi arriva dietro Speriamo di no 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 Bellissimo 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 Questa Bellissima Bellissima Grande 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 Lì Lì No Dai Quindi Quindi E dai E dai E ok Boom Ah mi tocca Ogni volta mi fa una paura Questa cosa nera che arriva Riparo il arrivo Le ombre vagano Ok Non ce ne andiamo di qua Ma porca vacca Mi ha presentato Questa forte Ok vediamo In A Oh Spara Cavolo Oh Che ci fa Quello Fk Dai Fk Segnalo Segnalo Porca vacca Dov'è Dov'è Partita abbandonata Fk Segnala Oh Vittoria Del Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso E niente ragazzi Comunque avete visto Che ho imparato Un sacco Ad usare Omen Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Condividete Commentate Mi raccomando Iscrivetevi al canale Star Casino gratis Vi ricordo che i link Sono tutti in descrizione Per tutto quello che vi ho detto All'inizio video Mi raccomando Scaricate la loro applicazione In modo gratuito Ve lo ricordo Ci vediamo al prossimo video Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale